Scuole sicure ma non tanto ci hanno fatto perdere un anno di tempo e adesso vengono a riciclare le nostre proposte. Chi tuona così è Remondo Fabrizio, consigliere comunale di Forza Italia, che ribatte alle dichiarazioni dell'assessore all'istruzione Sonia De Toma, che ha lanciato l'idea del trasferimento della San Pietro Celestino nello stabile del quinto settore all'acqua sul Furea. E' il caso di dire, afferma Fabrizio, che la montagna ha partorito il topolino. L'amministrazione ci ha messo un anno di tempo per arrivare alla conclusione di poter utilizzare la struttura del quinto settore, quando noi della minoranza proponemmo quella soluzione ad agosto. Quella del quinto settore è una soluzione che andava adottata subito anche perché si tratta della struttura più sicura del Molise e si sarebbe evitato lo smembramento della San Pietro Celestino. Ma non c'è solo la questione scuole ad infiammare il dibattito, c'è anche l'emergenza SUAP che è emersa negli ultimi giorni. E non si tratta di una sola voce ma di un coro al SUAP di Sernia, competente per il capoluogo ai comuni del circondario, sarebbe quasi tutto fermo o meglio bloccato, in attesa dei rari accessi del dirigente, il segretario generale del comune, che ha mille gatte da pelare e una moltitudine di incarichi che gli impediscono fisicamente di essere presente tutti i giorni, smistando e assegnando le pratiche ai vari tecnici e servizi. In sostanza la richiesta unanime di imprese privati è quella di nominare al più presto un dirigente tecnico che sia responsabile solo del SUAP, in modo da essere presente ogni giorno e ogni giorno fare il lavoro di divisione e assegnazione delle pratiche giacenti. E' bene chiarire che il segretario del comune Claudio Uccelletti non ha alcuna responsabilità in merito, infatti oltre ad essere il segretario è anche dirigente del SUAP dei Vigili Urbani e non si sa di quanti altri servizi. Il risultato è che non ce la fa, ma nessuno al posto suo ce la farebbe. A questo punto l'amministrazione nomina subito un dirigente tecnico oppure veramente va tutto a rotoli. Si pensi che le maggiori proteste arrivano da privati e piccole imprese che, per fare un qualunque lavoro con la bella stagione che si avvicina, devono avere il via libera dal SUAP. Via libera che tarda ad arrivare o non arriva proprio con ricadute e danni economici ed occupazionali. E l'immagine emblematica che più di tutte fa capire il funzionamento dell'ufficio tecnico del Comune di Isernia è quella della fontanella di piazza stazione, biglietto da visita della città di Isernia, a secco da mesi, perché a nessun tecnico o operaio del Comune viene dato l'ordine di ripararla.